Scusate, professore, il numero 7 tiene un forte mal di capo. Posso dargli un cachetto? Cos'è questo cachetto? Sono quei dischetti bianchi a forma di cappellitto. Avete visto mai per strada quello che fa la reclame? Già, ma si chiama Cialdino! Dategli un italianissimo Cialdino! Va bene. Gli farà bene lo stesso. Certo! E diamogli il Cialdino!